Buonasera e ben trovati in questa terza edizione del TG6. Apriamo con la cronaca, sequestro di beni per oltre 18 milioni di euro. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila è intervenuto nei confronti delle imprese responsabili dei lavori di realizzazione degli alloggi antisismici del progetto case di Cese di Preturo, dove si sono verificati crolli di alcuni balconi. Vediamo. Un maxi sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 18 milioni di euro è stato effettuato questa mattina dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila nei confronti delle imprese responsabili dei lavori per la realizzazione degli alloggi antisismici del progetto case di Cese di Preturo, dove lo ricorderete nel settembre del 2014 un balcone in legno si staccò dal terzo al secondo piano a causa del materiale definito scadente e di difetti strutturali nelle costruzioni. La somma sequestrata equivale al valore dell'appalto vinto da Futuro Aquila, società consortile ARL, costituita da tre imprese napoletane per la realizzazione di uno dei 19 insediamenti abitativi antisismici realizzati dopo il terremoto del 2009. Il sequestro è una conseguenza dell'inchiesta della Procura della Repubblica scattata in seguito al crollo del balcone. Le lunghe indagini portate avanti dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Finanza hanno portato nell'ottobre del 2015 ad iscrivere sul registro degli indagati ben 37 persone. Le indagini svolte hanno anche permesso di appurare che materiali impiegati nell'edificazione dell'insediamento abitativo non erano conformi a norme e prescrizioni. I materiali, ossia gli elementi strutturali in pannello multistrato utilizzati dalla Futuro Aquila per realizzare i solai, erano tra l'altro privi di collante che causava la riduzione di resistenza di tenuta nel tempo delle strutture. Durante le indagini, gli inquirenti sono riusciti anche ad accertare che la società fornitrice del materiale alla Futuro Aquila aveva conseguito un mero attestato di origine che certificava la provenienza del materiale da uno stabilimento in Polonia, attestazione che, sebbene identificasse lo stabilimento di produzione, non certificava in alcun modo l'idoneità del materiale prodotto agli usi cui era destinato. Ciò, secondo l'accusa, avrebbe indotto in errore la presidenza del Consiglio dei Ministri circa il rispetto degli obblighi contrattuali. Le accuse sono di crollo di costruzioni e altri disastri dolosi, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale, truffa aggravata ai danni dello Stato e frodi in pubbliche forniture. La Corte di Cassazione ha deciso di rinviare in appello a Perugia il processo per l'omicidio di Domenico Rigante a carico di Massimo Ciarelli. I giudici umbri dovranno, dunque, ridefinire la pena al ribasso perché fermo l'omicidio volontario e caduta la premeditazione. Tornerà in Corte d'Assise d'Appello, ma questa volta a Perugia il processo per l'omicidio dell'Ultra del Pescara Domenico Rigante. I giudici umbri dovranno rideterminare la pena dopo che la Cassazione, ieri sera, ha confermato l'accusa di omicidio volontario a carico di Massimo Ciarelli, annullando però l'aggravante della premeditazione che era valsa a Rom Pescarese la condanna a 30 anni di reclusione. I giudici della Suprema Corte hanno invece confermato integralmente le condanne per omicidio volontario e messe in secondo grado a carico dei quattro complici, 16 anni per Luigi Ciarelli e 13 anni per Domenico, Angelo e Antonio Ciarelli. I quattro, in primo grado, erano stati condannati sempre per omicidio volontario, ma a 19 anni e 4 mesi. Il procuratore generale in Cassazione, durante la sua requisitoria, aveva chiesto per tutti gli imputati la conferma della sentenza emessa dai giudici di secondo grado di L'Aquila. I legali di Massimo Ciarelli, gli avvocati Franco Metta e Giancarlo De Marco, invece, hanno contestato la premeditazione e puntato sull'omicidio preterintenzionale, oltre che sull'attenuante della provocazione per l'aggressione subita da Ciarelli il giorno prima dell'omicidio. Domenico Rigante, 24 anni tifoso nei gruppi ultra del Pescara, è stato ucciso a seguito di un raid punitivo in un appartamento di via Luigi Polacchi, zona Porta Nuova, la sera del 1 maggio del 2012, con un colpo di pistola che lo ha raggiunto a breve distanza al fianco. La pena per Massimo Ciarelli, 29 anni, che dopo l'omicidio si rese irreperibile, che fu arrestato dalla mobile di Pescara il 5 maggio, consegnatosi in un autogrill nei pressi di Francavilla, è destinata a subire una riduzione e certamente non sarà superiore ai 18 anni di carcere, considerato che l'imputato ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato che prevede uno sconto della pena. La famiglia Rigante si è detta comunque soddisfatta dell'esito del processo, perché è stata riconosciuta la volontarietà dell'omicidio e fatta giustizia al di là della quantificazione della pena. Il comune di Pescara ha reso noti i dati della balneabilità del mare dopo i prelievi dell'Arta. Dai prelievi del 18 aprile, dice il vice sindaco e assessore Enzo Del Vecchio, si evince che in via Balilla i valori degli enterococchi sono rientrati nella norma e quelli relativi all'escherichia sono poco al di sopra dei limiti. L'entrata in funzione del DK15 a fine aprile, continua Del Vecchio, consentirà di migliorare ulteriormente la situazione. Intanto sono stati fatti sopralluoghi nel canale di Fosso Vallelunga, dove si è riscontrata una portata consistente di acqua e attivati controlli lungo il suo corso, per meglio capire da dove nasce il problema e che soluzioni attivare. In ultimo conclude la nota del comune di Pescara, a seguito dei sopralluoghi fatti anche sulle condotte segnalate dall'ACA nella zona della Tiburtina, i condomini non collegati alla rete sono stati diffidati a mettersi in regola nel più breve tempo possibile. E ora torniamo all'Aquila, attivisti dei comitati nati nel post-sisma e di quelli che si oppongono al Trivelli in Adriatico sono stati denunciati per i tafferugli registrati nel capoluogo d'Abruzzo in occasione della visita del Premier Renzi. In tutto si tratta di 10 persone. Resistenza, lesione a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzata. Sono queste le accuse rivolte a 10 manifestanti a 9 mesi dalla protesta in occasione della prima visita di Matteo Renzi all'Aquila dell'agosto scorso, segnalati dalla Digos del capoluogo abruzzese all'autorità giudiziaria. Stando a quanto appreso, i denunciati sarebbero stati individuati tra gli attivisti e le attiviste del comitato 332 dell'Aquila e di quelli che si oppongono alle piattaforme petrolifere sulla costa triatica abruzzese. Il reato di resistenza e lesione pubblico ufficiale sarebbe contestato solo ad alcuni dei manifestanti e riconducibile alla presunta aggressione ad un agente di polizia nei pressi della sede comunale di Palazzo Fibbioni, anche se gli stessi comitati, in una conferenza stampa, mostrarono foto e video nei quali si mostra come l'agente fosse stata spintonata involontariamente da un proprio collega. Per tutti gli altri manifestanti invece il reato contestato è la manifestazione non autorizzata, essendo stato permesso inizialmente solo un presidio nella zona della Fontana Luminosa. Sale dunque il bilancio dei denunciati e processati nel corso delle manifestazioni post terremoto all'Aquila. Sono infatti una sessantina delle denunce partite negli ultimi anni, conclusesi con un'archiviazione e sei in via giudizio che si sono trasformati in processi. Di questi ultimi tre si sono conclusi con assoluzioni per tutti gli imputati, uno con condanne a sei mesi per danneggiamento, mentre gli ultimi due sono ancora in corso. Un milione di euro di risarcimento è la richiesta della senatrice aquilana Stefania Pezzopane, vittima di un ricatto con risvolti hard insieme al compagno. È una richiesta di risarcimento formato maxi, quella avanzata dai legali della senatrice aquilana Stefania Pezzopane, finita a suo malgrado insieme all'ex governatore Gianni Chiodi, in una brutta storia tra ricatti, bufale a luci rosse e foto ritoccate. Un milione di euro come riportato dal quotidiano Il Messaggero, la richiesta della senatrice che si è costituita parte civile nel processo, mentre Chiodi ha preferito non costituirsi. Grazie all'abilità informatica ed irresponsabile, la senatrice, in una foto ritoccata, era stata immortalata con il compagno in una vasca idromassaggio insieme ad un ex narcotrafficante, immagine che poi fu pubblicata su alcuni giornali a rotocalchi, con tanto di retroscena piccanti, tutto falso secondo quando sostenuto dagli avvocati. La richiesta di risarcimento è stata avanzata nei confronti di Gianfranco Marrocchi, originario di Pescara, editore di TV+, e Marco Minucci di Fermo. Gli ideatori della presunta truffa avevano cercato di estorcire denaro anche all'ex governatore Chiodi, sul quale gli ideatori del piano avrebbero voluto girare un film hard sulla scorta dello scandalo in Borsopoli, in cui venne fuori che Chiodi aveva trascorso una notte in un albergo romano con l'ex consigliere di pari opportunità Letizia Marinelli. Alla sbarra, nel processo che è stato aggiornato al 3 maggio, anche il regista Giovanni Volpe di Battipaglia e Raimondo Onesta di Pratola. Una mobilitazione in difesa di sei RSU a rischio di licenziamento. Questa mattina davanti agli stabilimenti della DAICO a Chieti Scalo si sono riuniti i rappresentanti dei sindacati regionali e nazionali. Una storia che sta suscitando attenzione anche dai rappresentanti nazionali che oggi sono a corsi a Chieti per sostenere i colleghi abruzzesi. Il caso è quello della DAICO e di sei RSU, rappresentanti sindacali, che oggi temono per il proprio posto di lavoro. A far scaturire tensione nei rapporti un comunicato diffuso da questi ultimi ai media locali. L'anno fiscale dell'azienda DAICO è il primo marzo 28 febbraio. L'azienda da sola ci convocava sempre e in quel mese di marzo si discuteva i piani prossimi mesi. Quest'anno non l'ha fatto, l'anno scorso l'ha fatto in netto ritardo, a giugno se ricordo bene. Dopodiché abbiamo fatto un comunicato stampa e l'hanno fatto le segreterie di Filctem, Wiltec e Femme, cioè le tre categorie di Cisle Wil, per sensibilizzare. Non so se questo ha suscettato il fatto che il nuovo Presidente l'è nominato il 15 dicembre, se è visto offeso. Legittimità nelle richieste e legittimità nelle comunicazioni. Questo è il pensiero dei rappresentanti sindacali che annunciano l'avvio di una vera e propria battaglia se il caso dovesse portare al licenziamento dei sei sindacalisti, nello svolgimento delle loro manzioni. Siamo di fronte ad un atto grave che non ha precedenti e che a noi sembra assolutamente esagerato rispetto ai contenuti delle cose che sono state dichiarate dalle nostre rappresentanze sindacali. C'è il rischio del licenziamento delle sei RSU a questo punto? Noi lo escludiamo assolutamente, di questo abbiamo interessato anche le nostre segreterie, oltre che nazionali anche le confederazioni. Sarebbe il primo caso eclatante che succede in Italia per aver dimostrato un diritto, insomma, si rivendicano dei diritti e si viene licenziati soltanto per un'informazione. Ci sembra assurdo. La CGL di Teramo è critica rispetto al piano di riordino della sanità regionale proposto dalla Giunta d'Alfonso. La provincia di Teramo, dicono, sarebbe la più penalizzata accrescendo la mobilità verso le marche. Per questo è stato redatto un documento che verrà sottoposto ai vertici della regione Abruzzo. Secondo la CGL Teramana, il piano di riordino del sistema ospedaliero, così come messo in campo dalla regione Abruzzo, non presenta un'equa distribuzione assistenziale sul territorio e penalizzerebbe in maniera pesante la provincia di Teramo. E questo è il punto nodale del documento che il sindacato ha preparato e che sottoporrà l'attenzione dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci e del presidente della regione Luciano D'Alfonso. Il documento della CGL elenca punto per punto le criticità, a partire dai mille posti letto messi a disposizione dei privati, di cui non si terrebbe conto, per passare ai presidi di pronto soccorso di Atri Giulianova e Val Vibrata, insufficienti rispetto alle direttive del decreto Lorenzin e alla massa di persone che vi si affollerebbero, per finire con la mobilità passiva verso le marche e gli ospedali delle altre asle regionali. Il tutto per dire che è necessario un coordinamento regionale in grado di rendere i servizi uniformi sul territorio è altrettanto indispensabile e la riconversione territoriale delle prestazioni effettuate in ospedale, che secondo la CGL ridurrebbe l'adegenza e i tempi di attesa, migliorando l'appropriatezza delle cure. La CGL non è contro l'ospedale unico, la CGL è contro la politica dei due tempi. In Italia si è sempre fatto così, si è sempre fatto la politica dei due tempi, cioè prima i sacrifici e poi eventualmente le cose. Il problema è che si è giocato sempre e esclusivamente il primo tempo. La provincia di Teron, che è stata quella che è stata più penalizzata negli anni passati per quanto riguarda le scelte sanitarie, rispetto anche al riordino che questa regione sta facendo, viene ancora più penalizzata, non tenendo conto che comunque la nostra provincia è anche una provincia di frontiera. La alza di terra ma ogni anno 60 milioni di euro di mobilità passiva e queste scelte rischiano di aumentarle. Il Comune di Chieti annuncia le linee programmatiche per l'appalto sulla gestione dei rifiuti. In cima agli obiettivi c'è l'implementazione della percentuale di differenziata, ma annuncia il Sindaco di Primio nessun rincaro sulla Tari, anzi si punta ad una diminuzione della tassa. Le linee programmatiche per l'appalto sulla gestione dei rifiuti a Chieti, in questa giornata quali saranno soprattutto le direttive e qual è l'obiettivo? Le direttive le abbiamo già date in giunta, la voglia è quella di avere una città sempre più pulita, avere servizi sempre più vicini ai cittadini, fare in modo che ci siano isole ecologiche che tolgano dalle strade i mastelli che oggi comunque sono un elemento di disturbo, creare politiche che avvicinino anche le classi meno abbienti alla possibilità di smaltire con maggiore facilità e ovviamente quella che è la meta più importante è aumentare quel 60% di differenziata sino al 65% nei prossimi mesi. Tutto questo è quello che vogliamo fare, lo stiamo facendo attraverso una serie di indicazioni date dall'aggiunta a chi dovrà redigere il capitolato d'appalto e quindi anche l'avviso per selezionare il nuovo gestore del servizio di igiene urbana, ma lo stiamo facendo soprattutto ascoltando i cittadini e i cosiddetti stakeholder, cioè i portatori di interesse della nostra città. Chieti si è distinta perché tra i comuni abruzzesi era quella che non ha mai aumentato il costo della tassa sui rifiuti, mantenendo i servizi. In questo caso implementando la differenziata ci saranno variazioni? No, non ci saranno variazioni sostanziali, ma noi ci aspettiamo che ci siano invece variazioni in diminuzione del costo e quindi con la possibilità di azionare anche la leva fiscale diminuendo la pressione sui cittadini. È ovvio che questo è un sistema che deve vedere tutti i coinvolti. Io devo denunciare in questo momento una diminuzione del livello di differenziata perché purtroppo ci sono ancora troppi cittadini incivili. Su questo abbiamo anche messo nel capitolato che ci sia maggiore sorveglianza attraverso anche droni. I turisti pagheranno un euro in più a notte a seguito della tassa di soggiorno introdotta dal comune di Pescara. Dopo 12 sedute andate a vuoto, ieri la votazione ha maggioranza ma restano le polemiche da parte dell'opposizione. Un euro a notte per un massimo di sette notti. Tanto pagheranno i turisti che soggiorneranno a Pescara a seguito dell'introduzione della tassa votata ieri a maggioranza nel corso del Consiglio Comunale dopo 12 sessioni andate a vuoto tra discussioni e polemiche. A partire dal mese di maggio entrerà in vigore il provvedimento che vale per alberghi, pensioni, bed and breakfast e case vacanza. Esentati invece i bambini sotto i 12 anni, gli ultra settantenni, i disabili, gli appartenenti alle forze dell'ordine e le persone che assistono ad agenti ricoverati, oltre ai soggetti che alloggeranno a Pescara per situazioni di emergenza sulla base di provvedimenti emanati dalle autorità competenti. La tassa di soggiorno è passata con 18 voti a favore, 3 no dei Movimento 5 Stelle e un astenuto, mentre il centrodestra ha abbandonato l'aula in segno di protesta per la decisione del Presidente del Consiglio, Antonio Blasioli, di tagliare gli oltre 700 emendamenti a firma delle opposizioni. Proprio su questo punto verterà un ricorso al Tar, già annunciato dal centrodestra, che ha accusato Blasioli di aver agito in maniera arbitraria, mentre il Presidente si è difeso, appellandosi ad una sentenza del Tar Veneto su un caso analogo. Soddisfatto per l'approdo importo della tassa di soggiorno, l'assessore al turismo Giacomo Cuzzi, che ha sottolineato come la nuova imposta sarà d'aiuto per stimolare la ripartenza del turismo, finanziando nuove iniziative e grandi eventi in città. Dimezzare il costo del servizio antincendio, affidandolo ai dipendenti ed evitando appalti esterni. E' questo l'obiettivo della ASL di Teramo, che sottoporrà il piano ai vigili del fuoco, in una riunione che si terrà domani. In ogni caso, così come è accaduto per la vicenda PAP, per il servizio Mensa, non saranno più concesse proroghe agli appalti. Tutta questa tematica è oggi governata da una nuova normativa, una nuova regola tecnica, che dice come gli ospedali si devono organizzare nell'attività di prevenzione degli incendi. Il 24 entra in vigore questa norma sulla vigilanza. L'azienda sanitaria presenterà al comando provinciale dei vigili del fuoco il proprio piano per la sicurezza antincendio. Il sistema dei vigili del fuoco ci dovrà dire, dare delle indicazioni, un parere se il nostro piano sia rispondente o meno a quella normativa. Questa situazione di necessità anche di equilibrio economico, di carenza di personale interno, noi vorremmo, per così dire, ridurre l'impatto di questa vigilanza acquisita dall'esterno utilizzando, peraltro, i dipendenti dell'azienda a cui abbiamo fatto acquisire i titoli necessari per svolgere questa attività di vigilanza antincendio. Un laboratorio di argilla in reparto è questa la novità in onco-ematologia pediatrica di Pescara. L'attività sarà svolta grazie alla fondazione TUN di Bolzano che ha messo a disposizione i suoi volontari per insegnare le tecniche di quella che è considerata una terapia creativa. Umanizzazione delle cure se ne parla sempre più spesso, l'obiettivo è quello di esorcizzare le terapie ospedaliere creando un ambiente più vicino possibile a quello della propria casa. A Pescara il reparto dei piccoli pazienti onco-ematologici prosegue il suo percorso offrendo un nuovo stimolo ricreativo, capace di occupare quelle giornate il reparto. Si tratta della lavorazione dell'argilla, un laboratorio introdotto da pochissimo tempo e già capace di dare i suoi frutti. Questa è un'attività che la fondazione TUN ci ha offerta e noi abbiamo accolto molto volentieri. Da quando abbiamo iniziato, ormai sono alcuni mesi da novembre, vediamo già i risultati concreti come potete vedere ma soprattutto quello che è importante al di là del risultato è la passione che i bambini hanno messo in questa attività che è tangibile, visibile, hanno tutti un entusiasmo grandissimo. Non soltanto loro, hanno coinvolto anche tutti gli operatori, i medici, i psicoci, gli infermieri, tutti partecipano all'attività di ceramico-plastica. La fondazione ha messo a disposizione i suoi volontari per formare anche a Pescara esperti artigiani da affiancare ai baby pazienti. Un'iniziativa che nasce a Bolzano dieci anni fa e che oggi si è estesa in moltissimi ospedali d'Italia, con sorpresa del suo stesso fondatore. I risultati importanti, l'ho citato prima, lo ritengo sia nella terapia creativa dove un pensiero viene tradotto in una figura tridimensionale, in un oggetto tridimensionale dove il bambino riesce a esprimere quello che sono i suoi pensieri, quello che sono le sue fiducia, quello che sono i suoi timori. Elabora e mette fuori, attraverso la creazione, mette fuori quello che è il proprio mondo interiore e quindi esprime quelle che sono le sensazioni che vive nel momento nel qui ed ora. E soprattutto è utile per il bambino e anche per il genitore in questo caso perché gli permette di ritrovare uno spazio di normalità. Ed ora apriamo la pagina sportiva, parliamo di Pescara e in particolare parliamo degli eventi in concomitanza con gli 80 anni della società Bianca Azzurra. Nel pomeriggio a Laurum un convegno per parlare appunto della storia del Pescara, un convegno al quale ha preso parte anche Leo Junior, uno dei grandi della storia Bianca Azzurra. Leo Junior che da ieri è arrivato in città, ascoltiamolo. Anche se sono stato soltanto due anni, due anni indimenticabili e perciò è un onore per me fare parte della storia di questa società e poi soprattutto di questa città perché in questi due anni abbiamo vissuto veramente i giorni moltissimi felici. Io sono stato accolto di una maniera che non pensavo e alla fine per me è sempre un piacere ritornare alla città. Pescara di oggi in lotta per tornare in Serie A, il Pescara di Massimo Oddo. Ma non posso parlare così, sarebbe una ingiustizia della mia parte, ho visto la partita ieri e mi ha dimostrato una cosa importante in questo momento che si arriva diciamo alla fine del campionato. Che è una squadra soprattutto grintosa, che ha saputo gestire un risultato ieri che era abbastanza difficile perché l'esperienza ha fatto tutto quello che poteva per arrivare almeno al pareggio. E mi sembra che i ragazzi di Massimo sono riusciti a fare, diciamo hanno inquadrato la partita come doveva fare. E se rimangono con questa grinta fino alla fine penso che proprio possono farcela. E dalla storia del Pescara la più stretta attualità, ieri la squadra di Massimo Oddo si è imposta 1-0 a La Spezia con la rete di La Padula. Ha ben figurato ancora una volta Vincenzo Fiorillo che ha superato il periodo di difficoltà e ha superato anche le critiche. Ascoltiamolo. Difficile fare dei nomi quando si vince, però c'è un ragazzo che ha sofferto in silenzio nelle ultime settimane, è stato chiamato in causa nuovamente e ha risposto alla grande. Questo è Vincenzo Fiorillo. Sono contento innanzitutto per i risultati di squadra perché quando perdevamo io ero triste come tutti i miei compagni. Sono abbastanza abituato a parlare poco, allenarmi tanto, provare a dimostrare sul campo. Qualche volta non ci sono riuscito, però tutti sanno quanto tengo a questa maglia e quindi sono contento così. Come nelle ultime partite, questa difesa, la difesa del Pescara, ha corso pochi rischi. Cosa è cambiato nelle ultime settimane? Ma è cambiato, è cambiato che in quei due mesi dove le cose non andavano abbiamo lavorato tanto, abbiamo parlato tanto, abbiamo cercato tutti quanti di correggere i nostri difetti e questo è un merito che va a tutta la squadra, a tutti i compagni. Si cresce, si migliora e questo sta avvenendo. Sicuramente è una competizione leale, questo spinge tutti e due a fare sempre il massimo. Sono stato per un periodo messo da parte e ho continuato a lavorare senza problemi, essendo il primo tifoso anche di Simone quando giocava perché lui l'ha sempre fatto con me. Tutti e due vogliamo il bene del pescare e basta. Volgiamo lo sguardo anche alla gara di sabato prossimo perché all'Adriatico arriverà il Brescia, sarà una gara particolare, la gara degli 80 anni. Giocherete con la maglia celebrativa e ovviamente sarebbe importante vincere non solo per la classifica, non solo per il morale, ma anche per fare un bel regalo ai tifosi in questa ricorrenza importante. Beh sì, onestamente parlo per me, sono orgoglioso di far parte di questa festa, però c'è una partita importantissima che vale tre punti, ma adesso sappiamo che sono tutti scontri diretti quasi, quindi dobbiamo cercare di strappare più punti possibili per piazzarci al meglio. Ieri sera una gran prova e una fondamentale vittoria sul Novara per la Virtus Lanciano, ma oggi è arrivata la temuta stangata, il Tribunale federale ha inflitto 5 punti di penalizzazione alla Virtus Lanciano e ora si complica la rincorsa salvezza. Si complica tremendamente la rincorsa verso la salvezza della Virtus Lanciano. Dal Tribunale federale arriva la stangata, 5 punti di penalizzazione da scontarsi nell'attuale campionato. La Virtus scende da 43 a 38 punti in classifica, in zona play-out appena un punto sopra la zona retrocessione. Il collegio giudicante, presieduto da Sergio Artico, ha poi inflitto 5 mesi e 15 giorni di inibizione per l'amministratore protempore Claudio Di Menno di Bucchianico, due mesi al presidente del collegio sindacale della Virtus Lanciano, Angelo Castrignano e 6.500 euro di ammenda alla società. E questo il verdetto di primo grado relativo ai tre deferimenti a carico della società frentana che sono stati riuniti su richiesta della difesa. Il primo relativo al mancato deposito presso la Covizoc, lo scorso 16 dicembre, delle dichiarazioni attestanti il pagamento di ritenute e contributi per i bimestri luglio e agosto e settembre-ottobre 2015. Deferimento per il quale lo scorso 17 marzo la difesa della Virtus Lanciano, coordinata dall'avvocato Edoardo Chiacchio, aveva ottenuto un rinvio della decisione per poter produrre ulteriori documenti a sostegno della tesi difensiva. Gli altri due relative alla mancata attestazione del pagamento di ritenute e contributi per i bimestri suddetti entro lo scorso 16 febbraio e al mancato pagamento degli emolumenti di novembre e dicembre al calciatore Manuel Turchi, sempre entro il 16 febbraio. Secondo quanto riportato nel comunicato del TFN, non ha retto la tesi difensiva per i primi due deferimenti, secondo la quale di meno di Bucchianico, all'epoca dei fatti, sarebbe stato sprovvisto dei poteri di rappresentanza attribuiti invece al DS Luca Leone, circostanza smentita dalla consultazione delle visure camerali. Circa il terzo deferimento, la difesa ha prodotto fotocopia di un verbale di accordo sindacale che il TFN ha definito privo dei requisiti di validità, autenticità e certezza della data. Dunque il collegio giudicante ha accolto in toto le richieste formulate dalla procura, una decisione che la Virtus Lanciano ha già fatto sapere che contesterà in appello, anche se sembra difficile ipotizzare uno sconto superiore ad un punto in secondo grado. Una partita che si giocherà essenzialmente sul deferimento per il mancato pagamento del calciatore Manuel Turchi. Nel frattempo alla squadra aspetterà il compito più difficile, isolarsi da questo contesto e massimizzare i punti nelle ultime giornate di campionato. La salvezza con sette punti di penalizzazione complessivi attuali avrebbe il sapore di un'impresa epica. Sempre in Serie B si è pronunciato il giudice sportivo che ha fermato per una giornata il centrocampista della Virtus Lanciano Vitale. Non ci sono squalificati per il Pescara né per le squadre rivali delle Abruzzesi, ovvero il Brescia che giocherà con il Pescara e il Cagliari che ospiterà la Virtus Lanciano. Scendiamo ora in Lega Pro. È mancata la forma migliore all'attaccante del Teramo Francesco Forte. La punta scuola Inter parla delle ultime partite da affrontare con la maglia del Teramo e promette ai tifosi che sarà in grado di dimostrare il suo valore sul campo. È un momento in cui bisogna comunque restare concentrati sulle ultime tre partite perché bisogna portare a casa altri nove punti che comunque ci sono tre partite importanti. La Pistogliese sicuramente sarà una partita difficile perché si gioca la salvezza mentre invece in casa contro la Spal dobbiamo mantenere la nostra imbattibilità e poi c'è l'ultima partita a punta d'era. Quindi sicuramente è un momento dove bisogna stare concentrati, dove bisogna comunque tenere alta l'asticella e finire al meglio la stagione. Diciamo che una risorsa importante anche per me è far giocare, fare assist, far giocare bene comunque la squadra perché quando non vengono i gol, almeno comunque è bene o male dare una mano alla squadra, cercare di mandare un compagno in porta è sempre gratificante. Chiaramente ora aspetto che il favore sia ricambiato. Senti, quindi archiviati i fischi di qualche settimana fa del buonore? Ma quello fa solo bene, mi fa crescere perché mi fa allargare un po' le spalle, mi fa crescere di personalità e sta a me adesso dimostrare, far vedere quello che valgo. Quindi non sarà né la prima né l'ultima volta che accadrà anche nel calcio, quindi non ci sono assolutamente problemi, anzi li capisco, i tifosi, e quindi voglio solo far vedere quello che valgo. Si chiude qui la terza edizione del TG6, il nostro notiziario torna domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione, buonanotte. Grazie.